Decine di sbacchi in poche ore, centinaia di migranti, una condizione assolutamente insostenibile a Lampedusa. Il Consiglio Comunale e il Governo della Regione Siciliana hanno chiesto a Roma la proclamazione dello Stato di emergenza. Ci sono problemi sanitari, problemi sociali, problemi economici. Abbiamo bisogno di risposte, di risposte immediate. Lampedusa non può diventare una terra di frontiera. La cosa che mi stupisce oggi è che il Presidente della Regione di fronte a questa emergenza si presenta a Lampedusa a prendere coscienza di quello che sta accadendo, mentre da diverso tempo che invito il Presidente Conte a preavvenire a Lampedusa, controllare lo Stato di emergenza e l'unica risposta è un silenzio assordante. Per questo motivo chiedo ufficialmente che viene il Presidente insieme al Presidente della Regione a Lampedusa o altrimenti ci convoca a Roma per una riunione ed esaminare lo Stato di calamità che è stato dichiarato da parte della Presidenza della Regione.